Heidi capitolo 2 in casa del nonno. Il vecchio sedette di nuovo sulla panca e cominciò a tirare dalla pipa lunghe nuvole bianche fissando gli occhi al suolo senza dir nulla. Heidi si guardava soddisfatta intorno, scoprì l'ovile addossato alla casa, ne socchiusi leggermente l'uscio per vedere cosa ci fosse dentro. Era vuoto, continuò il suo giro di spezione e giunse agli abeti che si ergevano in alto sul lato posteriore della casa. Il vento soffiava con urle gemiti in raffiche violente curvando fino a terra i lunghi rami. La bimba si fermò per ascoltare, poi quando il vento si calmò ed il rumore si trasformò in bisbiglio girò l'angolo del casolare per ritrovarsi di fronte al nonno immobile ancora nella stessa posizione. Lo guardò a lungo con attenzione ed egli infine alzò gli occhi. Che vuoi fare ora? chiese la bambina. Vorrei vedere cosa c'è nella capanna. Vieni. Egli si alzò e si diresse verso la porta. Prendi la tua roba, disse indicando l'involto degli indumenti. Oh non ne ho bisogno, replicò ella. Egli si volse e fissò lo sguardo su quel viso sorridente. Non è una sciocca, brontolò. Poi soggiunse più forte. Perché? Preferisco andare libera come le capre. Va bene, siamo intesi, ma porta la tua roba lo stesso, la metteremo nell'armadio. Aprì la porta ed entrò in una camera larga quanto l'intera capanna. Il mobilio era modesto. Una tavola, una sedia, nell'angolo il letto. In mezzo alla parete il grande camino e dall'altra parte una porta che gli aprì. L'armadio. Vi erano appesi degli abiti e sulle assi sovrastanti si vedevano delle camicie, delle calze e dei fazzoletti. Poi dei piatti, delle tazze e dei bicchieri. Infine un pane rotondo, una fetta di lardo affumicato e del prosciutto. Heidi si avvicinò per gettarvi il suo fagotto, in fondo all'angolo dove non fosse tanto facile ritrovarlo. Poi, esaminando attentamente la camera, disse dove dormirò nonno? Dove vuoi? e fu tutto. La bimba si guardò intorno e infine, scorgendo una scaletta appoggiata al muro, vi si arrampicò. In una specie di soffitta si ammucchiava un enorme fascio di fieno profumato. Dalla finestrella l'occhio poteva spaziare fino in fondo alla valle. Che meraviglia! Voglio dormire qui! Vieni a vedere nonno! Lo so, rispose gli dal basso. Ora faccio il letto, continuò la bimba che si udiva andare in su e in giù con passo affaccendato. Mi ci vuole un lenzuolo. Nei letti si mette sempre un lenzuolo o anche due per dormirci sopra. Va bene, rispose egli. Aprì l'armadio e dopo aver cercato su tutte le assi trovò sotto le camicie un pezzo di tela rustica. Il letto appariva sufficientemente confortevole. Ella aveva mucchiato il fieno per rendere il materasso più soffice. Prese il lenzuolo che trascinò a stento. La tela era pesante ma in tal modo era certa di non venire punta dal fieno. Aiutò il vecchio a stenderlo sul letto rincalzandolo svelta per dargli una forma conveniente. Poi considerò la sua opera con aria pensierosa. Abbiamo dimenticato una cosa nonno. Cosa? Una coperta. Sai, quando si va a letto ci vuole sempre il lenzuolo e la coperta. Ah, e se non l'ho, non importa, faremo la coperta col fieno. E si accingeva a prendere una bracciata. Aspetta. Egli scese le scale e tornò con un pesante sacco di canapa. Non è meglio questo? Heidi tirava il sacco in tutti i sentisi cercando di stenderlo ma le sue panine non riuscivano a venirne a capo. Egli gli aiutò lo stese poi sul lenzuolo. È proprio una bella coperta, disse poi lei. Tutto un letto è magnifico. Non ti pare, nonno? Vorrei che fosse già notte per andare a dormire. Potremmo intanto cominciare a mangiare qualcosa. Nel suo zelo Heidi aveva dimenticato tutto il resto, ma si accorse ad un tratto di avere una gran fame. Rispose con premura. Sì, mangiamo qualcosa. Quando è così possiamo scendere, disse il vecchio seguendola. Tolse dal focolare una grande pentola, sostituendola con una più piccola e sedendosi vicino al treppiede accese un fuoco chiaro e brillante. Presto il contenuto della pentola cominciò a bollire ed egli, armato di un lungo forchettone, mise sul fuoco un grosso pezzo di formaggio che girò e rigirò fino a che non fu ben dorato. Heidi aveva dapprima assistito alle operazioni con grande attenzione, poi le venne un'idea improvvisa e si allontanò per eseguire una serie di va e vieni fra l'armadio e la tavola. Il vecchio lasciò a sua volta il focolare con una grande scodella di latte ed il formaggio. Quando si volse trovò la tavola apparecchiata col pane tondo in mezzo. «Beh, sono contento di vedere che sai darti d'attorno», disse posando il formaggio sul pane a mo' di piatto. «Ma manca qualche cosa in tavola. Alla vista del vapore che si alzava dalla scodella, Heidi comprese e corse all'armadio. Non vi era che una tazza, ma non si sgomentò. Sull'asse vide due bicchieri, li prese e li depose con la tazza sul tavolo. «Brava! Non ti perdi in un bicchier d'acqua tu, ma ora dove siedi?» L'unica sedia era la sua. La bimba prese tre piede e vi si sedette sopra. «Sì, non è poi una cattiva idea», disse egli, «ma è un po' basso quel sedile. Guarda se va bene così». E la pose la tazza colma di latte sulla sedia che avvicinò. Vi pose anche un pezzo di pane con la fetta di formaggio croccante dicendo «ecco, mangia ora». Egli sedette sull'angolo della tavola e il pasto cominciò. Heidi beveva il suo latte con avidità per sedare alla sete del viaggio. Tirò un sospirone per riprendere forza e depose la tazza sulla sedia. «Ti piace?» chiese il nonno. «Non ne ho mai bevuto di così buono». «Allora eccone ancora». Ed egli riempì ancora la tazza fino all'orlo, porgendola alla piccola che intanto mordeva di gusto il pane su cui aveva steso il formaggio liquefatto, tenero come il burro. Finito il pasto, il vecchio uscì per mettere in ordine l'ovile ed ella lo osservò attentamente mentre gli scopava e metteva la paglia fresca perché le bestie potessero dormirvi. Lo seguì poi sotto la tettoia vicina dove lo vide prendere dei bastoni che gli tagliò in strisci uguali. Da un legno più grosso tagliò un'asse rotonda in cui fece dei buchi per infilargli i bastoni che fissò con dei chiodi. Heidi, muta di stupore, si accorse che quella era una sedia più alta di quella del nonno. «Sai cosa ho fatto?» chiese egli. «È una sedia per me. Come hai fatto presto?» disse l'ammirata. «È una buona osservatrice», si disse il vecchio facendo il giro della casa armato degli utensili e di qualche pezzo di legno. Di tanto in tanto dava un colpo di martello rinforzando la porta, riparando ora qui, ora là. La bimba lo seguiva passo passo, senza lasciarlo con gli occhi e divertendosi tanto che non si accorse della sera che ormai era giunta. Il vento ricominciò a soffiare con violenza squassando i vecchi abeti. Quella musica rallegrò talmente la bimba che la presa a saltare a ballare sotto gli alberi per dar sfogo alla sua gioia. Il nonno, ritto dinanzi alla porta dell'ovile, la guardava. Ma ad un tratto si udì un fisco ed ella si fermò. Pietro e le capre scendevano correndo dal pascolo. Giunto presso la casa, il greggio si fermò e due belle capre, una bianca, l'altra bruna, si avanzarono verso il vecchio che porse loro del sale sul palmo della mano. Pietro disparve col resto del greggio. Heidi accarezzò teneramente le due bestiole e poi chiese «Sono nostre, nonno, tutte e due, dormono nell'ovile, staranno qui con noi?» Egli rispondeva «Sì, sì», ad ogni domanda. E quando le capre ebbero finito di mangiare il sale, le disse «Va a prendere la tazza e porta il pane». Ella obbidì e tornò subito. Il nonno allora cominciò a mungere la capra bianca e quando la tassa fu piena tagliò una fetta di pane. «Ecco, mangia», disse, «e poi si va a dormire. La zia Deglia ha lasciato per te un pacco con delle camicie e altre cose del genere. Lo troverai in fondo all'armadio, se ti occorrono. Io intanto porterò le capre all'ovile. Buonanotte». «Buonanotte, nonno». «Come si chiamano? Dimmi il loro nome», disse Ella correndogli dietro. «Questa si chiama Bianchina l'altra Brunetta. Allora, buonanotte, Bianchina, buonanotte, Brunetta», gridò Heidi mentre le capre entravano all'ovile. Si sedette poi sulla panca per mangiare il pane inzuppato nel latte, ma al vento ad un tratto la gettò quasi per terra ed allora si affrettò a rientrare a salire sul giociglio, ove, come su di un letto di piume, si addormentò di un sonno dolce e profondo. Qualche istante dopo anche il vecchio si coricò. Era uso alzarsi ogni mattina col sole e nel pieno dell'estate il sole nasce presto in montagna. Nella notte il vento soffiò facendo genere la capanna. Urlava scotendo con rabbia i vecchi abeti. Il vecchio si alzò mormorando. «Certo, avrà paura lassù». Salì la scala. La luna argentea usciva a tratti dalle nuvole per scomparire di nuovo e tutto ripiombava nel buio. Il suo dolce chiarore illuminò ad un tratto giociglio della bimba. Nel sonno il suo viso si era arrossato. Dormiva tranquilla con la testa china sul braccio grassoccio e doveva sognare qualcosa di piacevole perché a un sorriso passava lieve sulle labbra dischiuse. Il vecchio la contemplò a lungo. Poi la luna scomparve dietro una nube e degli raggiunse il suo letto in punta di piedi.